Anche a Tancarano, da qualche giorno è disponibile la carta elettronica di identità. Sì, è partito anche questo servizio presso il nostro comune, abbiamo aderito al nuovo programma digitale nazionale che prevede l'istituzione della carta di identità elettronica nell'ambito delle attività di digitalizzazione in corso. E' chiaramente un'opportunità in più per la cittadinanza perché permette di entrare in un sistema di digitalizzazione che appunto dà l'opportunità di verificare determinati dati in ambito nazionale senza dover ricorrere spesso alle ordinarie procedure cartacee. Forse sembra un po' insomma ripetitivo, però lo facciamo. Come si accede a questo tipo di servizio rispetto al passato? Da un certo punto di vista ci sono delle semplificazioni per quanto riguarda l'utilizzo e la modalità dei dati. Da altri punti di vista è chiaro che adesso in questa prima fase si possono riscontrare in un certo senso alcune diversità nell'approccio e quindi questo chiaramente in una prima fase potrebbe portare anche a un rallentamento delle procedure. Cosa chiaramente un rallentamento non dovuto sicuramente alle attività municipali e del comune perché comunque siamo pronti da questo punto di vista quanto più magari è un sistema di tipo nazionale che è cambiato e che quindi magari è in fase di rotaggio. Tra l'altro insomma questo servizio viene anticipato rispetto a quello che era stato insomma il programma perché viene instaurato in questa sede comunale anticipando il ritorno nella sede naturale, nella vecchia sede del comune. Sì, nella prima fase come era stato già anticipato era previsto l'attivazione del servizio presso la sede principale che attualmente ci sono dei lavori in corso per il miglioramento sismico dal punto di vista sismico quindi era stata prevista già in quella sede. Diciamo per però non creare disguidi alla cittadinanza e quindi per dare questa opportunità nell'immediato alla comunità e alla cittadinanza siamo riusciti ad attivare il tutto in largo anticipo appunto prevedendola già nella nostra sede provvisoria presso l'auditorno comunale. A questo proposito mi è credito anche ringraziare il segretario generale, la dottoressa Mia Piro e l'ufficio Nagrafe a partire dall'addetto Mauro Ballatori appunto con i quali siamo riusciti a dare luogo dal punto di vista tecnico-gestionale a questo nuovo servizio.